Le primarie sono un momento di confronto che deve essere anche acceso con una dialettica serrata, sempre con la consapevolezza che si sta dentro lo stesso partito, dentro lo stesso campo, quello del centro-sinistra e con l'obiettivo chiaro che poi ci sono le elezioni regionali che sono un'occasione storica e noi la dobbiamo vincere. Quindi un secondo dopo la fine delle primarie, tutti insieme per provare a vincere le elezioni politiche, ma soprattutto per quanto ci riguarda, visto che siamo in Lombardia, aspettiamo da tempo le elezioni regionali. Doppio obiettivo da raggiungere, così Alessandro Alfieri, vicesecretario regionale del PD e coordinatore Lombardo del progetto del rotamatore Matteo Renzi. Il 25 novembre si terranno le primarie del centro-sinistra per l'individuazione del candidato premier per le prossime elezioni politiche. Sono in molti anche sull'ario i sostenitori di Renzi, che lunedì prossimo nella sede del Politecnico di via Castelnuovo a partire dalle 17.30 potranno incontrarlo. Rottura con il passato, ricambio generazionale, riduzione di parlamentari, questi alcuni dei punti del suo programma. Tra i temi che verranno affrontati in città, annunciano gli organizzatori, anche quello dei frontalieri. A Como la macchina organizzativa è partita da tempo, ora c'è un mese per coinvolgere più sostenitori possibile. Molti tra i dirigenti lariani del PD si sono già schierati con il segretario per Luigi Bersani. Noi non lavoreremo mai contro nessuno, non ci lamenteremo neanche quando magari qualche regola ci gioca un attimino contro, quando magari non capiamo qualche passaggio un po' forzato. Cercheremo solo davvero di porre al centro delle questioni i temi e l'interesse dei cittadini. Grazie. 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 Grazie.